Giovanni è appena atterrato. Nei pochi istanti che rimangono prima dell'arrivo degli altri operai, decide di fare un sopralluogo al vecchio bivacco prima che nei prossimi giorni venga demolito per essere sostituito da una nuova struttura che sorgerà a pochi metri di distanza. Parte del suo materiale di scarto verrà riciclato in altre zone del cantiere. Per Giovanni è un luogo che contiene anche molti ricordi. Che denarie già da qua, visto? Fra un po' era smaltellato. Vediamo le ultime cose che ci sono dentro, poi l'ho dormito qua tre volte, in questo bivacco qua. E il profumo che c'è dentro qua è l'ambiente, le tavole vecchie, le scritte sulle tavole di gente che è passata. Non so perché, insomma. Un po' è un peccato, però. Le cose vanno avanti, allora. Verrà rinnovato anche questo. Le prime rotazioni di materiale sono cominciate. Per iniziare la costruzione del basamento del nuovo bivacco, l'elicottero dovrà trasportare ad alta quota quintali di materiale e sgomberare il campo dai vetriti e dagli scarti del cantiere. Serviranno decine di rotazioni. Allora, la linea grossa va giù. Uno, due, tre, quattro, cinque, Ivanzo. Giovanni, ti è sicchi che stai qua? Sì. Quei tempi come sente? Voi? Voi, quei tempi. Posto? Lunedì tosto, come tutti gli altri lunedì, salvo il numero di carichi molto probabilmente eccessivo per la giornata. Vi avrei da far uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, trasferimenti a Tiala. Il classico lunedì da Brentei. Tanta gente, idraulici, elettricisti, comitenti, architetti e compagnia. Quattro che lavorano. Trenta che guardano. Il classico lunedì da Brentei. Oggi abbiamo un bel po' di carichi da fare sia in salita che in discesa. Perché abbiamo del materiale degli idraulici che portano su le caldaie e poi abbiamo tutta la sabbia per fare il cemento che la doppriamo per fare le fondazioni del locale invernale. Nella discesa invece abbiamo tutte le parti demolizioni che sono il cemento delle demolizioni degli esterni che quello va portato a valle per poi smaltirlo nei centri di recupero. Poi un po' di trasferimenti per mettere a posto un po' la legna sempre quella del recupero delle demolizioni. Un elicottero può portare fino a quassù dai otto al massimo massimo dei cinquintali. Dassù appunto la difficoltà è proprio questo che ogni cosa che devi portare a rifugio devi portarla con l'elicottero. Siamo circa 1800 carichi, 1700, 1800 carichi in questa fase qua e vedo che ce ne saranno ancora due, trecento circa così stimati di carichi.